Al Comunale di Nuova Felita ci sono punti importanti da una parte. Nuova Felita deve mantenere la propria posizione nei play-off, dall'altra l'Alta Valconca cerca punti salvezza. Il Nuova Felita arriva dall'importante vittoria esterna sul campo del Bacchia, all'Alta Valconca dal successo interno contro l'Atletic Poggio. All'andata la gara terminò 2-0 per l'Alta Valconca, primo e unico successo raccolto dalla formazione di Del Monte nelle quattro sfide giocate tra lo scorso torneo e quello odierno. Abita la gara il signor Tola della sezione di Cesena. Nuova Felita che si schiera coltidente offensivo che vede i protagonisti Muratori, Semplini e Cupi. Dall'altra parte Passini, Cevoli con la legge di Cardini a provare a dare fastidio alla porta difesa da Semplini. La tensione non si avverte solo in panchina da una parte e dall'altra, ma anche in tribuna. La gara si accende già al primo quando Bertuccioli serve lo smarcato Cevoli che in girata calcia al lato. Gli ospiti recriminano al secondo per l'atterramento di Passini in area di rigore, ma le immagini dimostrano che il contatto con Bambini non c'è. Altre recriminano al terzo quando Niang si lamenta per una trattenuta d'opera di Mamutai. Tola di Cesena non interviene, ma se c'è il contatto in Mamutai avviene fuori dell'area di rigore. La replica di Nuova Fete perviene per opera di Pietro Semplini, conclusione centrale bloccata da Tullio. Nuova Fete è nuovamente protagonista in area avversa, la girata di Amantini crea scompiglio e dopo un batti ribatte Balduccia dentro l'area piccola sprecare l'occasionissima per l'1-0. Intanto cambio di Scarpini per Pasolini, mentre Tola cerca di tenere in mano la gara usando il dialogo con i calciatori. La punizione dell'Alta Valconca torna a colpire, ma la conclusione di Morolli termina di poco a lato, mentre Pasolini dietro l'area di rigore si gira bene, ma deposita la sfera a fondo campo. Brutto scontro al quarantesimo tra Ferri e Mamutai ad avere la peggio del centrocampista di Nuova Fete, mentre il numero due dell'Alta Valconca rimane storicamente in campo con una vistosa fascia al capo. Squadra riposo solo 0-0 sotto gli occhi del direttore di gara, Tola. La ripresa nei primi dieci minuti ha varia di emozioni da registrare un corner insidioso battuto da bomber muratori, mentre il dialogo tra Pietro Semprini e Cupi manda in bambola la difesa avversaria, che dopo un batti e ribatti e una mischina di rigore è infinita, l'occasione capita sul piede di Pasolini, che spedisce alto. L'Alta Valconca si chiude bene, prova col piede a calcio piazzato, la punizione di Morolli fa la barba al palo. La successiva conclusione dalla distanza di Pazzaglini è raccolta da Semprini. La partita cambia al ventesimo della ripresa, quando Passini, servito da Niang, cerca il contatto con Rinaldi, gettandosi a terra. Per l'arbitro non si tratta di punizione, ma il giocatore perde le staffe, dicendo qualche parola di troppo proprio a Tola. A questo punto l'arbitro si avvicina al centroavanti giallo-rosso, estraendo il secondo cartellino giallo ed infine il rosso. Alta Valconca dunque in dieci uomini. Il nuovo affetto viene murato ottimamente, Alta Valconca non concede spazi, qui Niang sbaglia però il rinvio con Balducci che non ne approfitta, mentre lo stesso Niang dall'altra parte calcia il pallone addosso a Babini, recriminando un penalty che Tola, anche in questo caso, decide di non decretare. Il nuovo affetto a questo punto reagisce dal corner. Alta azione confusa in area avversaria, il pallone giunge sui piedi di Cupi che da posizione defilata centra all'esterno della rete. Intanto Fabri vuole vincere la partita, fuori i radici, dentro Morciano, ma proprio Radici che era entrato nel corso del primo tempo non la prende affatto bene, ma il giallo-bruno dando peso allo sfogo, sfogando la propria voglia di vittoria in campo con il nuovo affetto che nel primo dei quattro minuti di recupero sblocca la situazione. Dall'angolo arriva il colpo di testa vincente di Balducci che manda il nuovo affetto in paradiso, ottenendo tre punti in un match difficilissimo e complicatissimo per la bravura anche degli avversari. I gols ha di liberazione, opportuno il replay. Nel secondo dei quattro minuti di recupero, l'alta Balconca tenta il pari, nuovamente da calcio piazzato, ma la palla è lontana dal bersaglio. Con il signor Tola dice Sena che fischia alla fine del match, con Lola da parte del nuovo affetto che li spinge sotto lo spicchio di stadio, riservato ai propri ultrasi che hanno cantato dall'inizio alla fine del match. Applausi in questo caso a Sena aperta.